0 a 0 dell'Egnago in casa contro il Caravaggio difeso a Riccio per rispondere agli attacchi dell'Egnago che parte subito bene al sesto Maiese e Cavallini per Lella probabilmente l'azione non ha l'esito desiderato dai colori biancazzurri tredicesimo di gioco c'è Nicola Valente che gioca questa palla sul settore sinistro del fronte offensivo dell'Egnago il colpo di testa credo di Pietro Filippini ma potrei sbagliarmi da questa posizione non è chiarissimo l'autore del colpo di testa c'è Tommaso Lella minuto 46 imbeccato sul filo del fuorigioco prova Lella a trovare la via della porta ciabatta però mi si consente mi si permetta questo termine per un campione per un bomber come Tommaso Lella che quella palla la giocata veramente non all'altezza delle sue possibilità Pietro Filippini in mezzo a un nuvolo di avversari non trova il tempo buono per colpire a rete la distanza ravvicinata andiamo alla ripresa con Viviani la palla che viene messa in calcio d'angolo dal portiere del Caravaggio Cambianica se la nostra il nostro referto arbitrale è quello corretto poi c'è Viviani e Cavallini ancora al quarto a cercare di mettere pericolo dalle parti di Cambianica poi Sonzogni 25esimo Caravaggio si fa vedere dalle parti di Buricin che però controlla in due tempi e poi c'è l'ultima occasione il calcio di punizione di Maiese che ancora una volta Cambianica mette in calcio d'angolo 0 a 0 peccato tra Legnago e Caravaggio